Radio Radicale, siamo con il generale Antonio Pappalardo per parlare del caso Vannacci. Allora, io oggi l'ho incontrata qui a Montecitorio, lei è un generale, allora magari saprà giudicare meglio di tanti altri il caso del generale Vannacci. Allora, lei come ha trovato la vicenda che lo ha riguardato, il comportamento del Ministero della Difesa? Allora, lei all'epoca in cui si candidò andò in aspettativa, che cosa fece e le volevo chiedere se c'erano state delle polemiche nel suo caso. No, nessuna polemica. Specificando che Vannacci ancora non si è candidato. Io mi sono candidato con un gruppo di 30 militari, poliziotti, vigili urbani eccetera, ci ha accolto fra le sue figlie il Partito Socialista Democratico Italiano. Io ringrazio Antonio Cariglia perché ci ha ospitato. Noi siamo rimasti ovviamente dentro il gruppo socialdemocratico, facendo la nostra attività politica a favore dei colleghi. Tutto è andato bene, io sono stato eletto deputato, ho svolto qui il mio mandato regolarmente. Anzi, sono stato molto apprezzato dai socialdemocratici perché non divendevo solamente il personale, ma divendevo anche la gente comune. Tant'è vero che trovando una volta in un self-service qui alla stazione Termine di Roma, una signora mi disse peccato, generale, che non le posso offrire il pranzo perché non ho soldi, però almeno mi faccio offrire il caffè. Ma scusi signora, ma perché lei mi vuole offrire il caffè? Perché lei è una delle poche persone che lotta per la gente che non conta niente. E questo per me è stata una grande medaglia. Quindi volevo dire che avevo fatto un'attività politica molto misurata, soprattutto a favore della povera gente. Ecco, allora, lei prima di candidarsi ha scritto un libro, aveva fatto delle esternazioni politiche, ci furono provvedimenti disciplinari nei suoi confronti? No, guardi, io ero il presidente del cocer carabinieri, scrissi dei vari documenti, uno famoso è il documento sullo stato del morale del benessere del personale dei carabinieri, che trovai in una situazione veramente disastrosa. I carabinieri stavano malissimo. Io scrissi il documento insieme a tutta la rappresentanza militare e lo demmo questo documento al comando generale dell'arma. Il comando generale dell'arma lo feci girare per tutta Italia. Si accorse che c'era qualcosa che non andava, perché i carabinieri in quel documento scrivevano che i primi a fare sovercheria al personale erano proprio gli ufficiali. Mi proposero per la denuncia alla procura della Repubblica di Roma. Io disse, bene, lei denuncia la rappresentanza militare, cioè la rappresentanza di 110.000 americani, lei si deve vergognare per quello che ha fatto. Hanno cercato subito di rattoppare. Arrivato il procuratore della Repubblica, non è successo niente, archiviamo fu subito. Hanno artigliato tutto in 48 ore. Certo. Il ministro della difesa come si comportò nei suoi confronti? Il ministro della difesa a quel tempo era Mattarella. Mattarella è stato dopo. Di Bergamo, un grande democristiano, un grande uomo. Non te lo ricordo. Non mi ricordo, ma un grande uomo. Lui mi difese, disse non si può buttare la croce addosso a uno che sta difendendo i carabinieri e il personale. E mi difese in attività che il comandante generale mi chiamò e mi chiese immensamente scusa. Ho capito. Su Vannacci che impressione ha avuto? Ma vede, io sono quello che conosce bene la normativa. La normativa nasce con la legge famosa del 1978, la 382, il famoso articolo 5. Nel momento in cui io ero comandante alla compagnia Carabinieri al Pordenone, un intero battaglione di carlisti in uniformi sfilò per Pordenone. Vogliamo il nuovo regolamento di disciplina militare. Perché ahimè, avevamo ancora nel 1978, torno a 30 anni, ancora il regolamento di Mussolini. E ovviamente i militari erano infuriati. Finalmente ottennero la legge. L'articolo 5 dice che il regolamento di disciplina militare, lo dico a tutti gli ottusi o a quelli che non vogliono capire, il regolamento di disciplina militare si applica ai militari che svolgono attività di servizio, ai militari che vestono l'uniforme, ai militari che stanno in caserma, ai militari che trattano questioni riservate di servizio. Non mi pare che, vannacci, si rientri nell'articolo 5 e nel codice dell'ordinamento militare. Per cui tutti quelli che si stanno buttando addosso loro sono dei cialtroni, dei buffoni, dei pagliacci. Perché si leggano bene il codice dell'ordinamento militare, possono censurarlo, per carità di Dio. Possono non essere d'accordo. Ma tu che caso stai dicendo? Io per esempio su alcuni punti non sono d'accordo. Ma io non gli dico che non devi scrivere, non devi parlare, perché non è corretto. Perché c'è l'articolo 49 della Costituzione che dice che tutti i cittadini, compresi i militari, possono associarsi liberamente in partiti per determinare la politica nazionale. Come la determina la politica nazionale se sei contrario al pensiero unico? Ecco, ma lei pensa che al di là del suo pensiero ci sia stata anche una vicenda legata all'ambasciata russa sul quale stanno facendo degli accertamenti. Allora, l'ambasciata italiana a Mosca, dove lui era addetto militare. Allora, pensa che ci possa essere stato anche lui? Ma c'è stato un precedente episodio. Van Nacic, prebellantissimo ufficiale, comandava reparti. Lei lo conosce? L'ho conosciuto una sola volta. Sono andato ad ascoltarlo perché sono curioso. Sono andato a una sua presentazione del libro e le devo dire che parla bene, si esprime bene, non è aggressivo e sa misurare le parole. E gli faccio i complimenti. Lei è d'accordo con lui? Attenzione, attenzione. Perché Van Nacic è uscito fuori in questa maniera? Perché l'episodio risale alla fecenda dell'uranio impoverito. Lui fu stato l'unico ufficiale che disse chiaramente, facendo due denunce, una alla procura militare e l'altra alla procura ordinaria, che i proietti con l'uranio impoverito esistevano e avevano causato tanti morti. Non l'avesse fatto. L'hanno preso, l'hanno messo a fare il direttore dell'osservatorio tipografico, lo hanno messo da parte. Lui ovviamente... Osservatore geografico? Osservatore geografico. Chiedo scusa. No, no, ci mancherebbe. Geografico. Lo hanno messo da parte. Uno che è operativo, che è abituato a stare... Visto si da parte, ha scritto qualche cosa. Lo volete fare sfogare a questo giovanotto che in qualche modo si è sentito messo da parte? E ha scritto quello che ha scritto. Ci sono alcune cose sulle quali io non convengo. Io ho le mie idee. Io sono un artista. Sono un uomo libero. Lei sa che io sono noto perché mi metto contro il regime del pensiero unico da parecchio tempo. Però, come diceva il grande Voltaire, io, a chi che sia, non abbia il mio stesso pensiero, devo consentire di parlare. E lui deve parlare. Poi, naturalmente, ci confrontiamo e parliamo. Per quanto riguarda la faccenda delle ambasciate, forse... Vabbè, questa è inutile parlarne perché che ne sappiamo noi? No, ancora non sappiamo niente. Se qualcuno vuole vedere quello che succede all'ambasciata, non vada a vedere solamente quella russa. Vada in tutte le ambasciate. Quanti soldi vengono spesi dai nostri ambasciatori? come altri ufficiali. Vogliamo fare... Io dico alla Meloni, caro Meloni, fai una bella indagine a 360 gradi, non mirare solamente all'ambasciata russa. Guarda tutte le ambasciate. Però non dobbiamo creare un pregiudizio nei confronti... è ingiusto. No, la faccenda è questa, che Vannacci non può essere sparato perché a un certo punto, siccome è l'uomo, adesso mi viene fuori anche questa. Le faccio un esempio. Io ero nell'occhio del ciclone perché mi ero messo contro i vertici militari perché trattavano male i carabiei. Mi arriva un maresciallo. Signor Giannale, ma che cosa ha fatto? Non dico, non ne so nulla. Che? Ma lei ha fatto suonare un pezzo alla banda dell'arma? No, dico, non l'ho suonato io, sono passato per salutare. Loro mi hanno emozionato, hanno suonato un pezzo mio. No, la stanno indagando per usura degli strumenti musicali. Addirittura? Ah, questi sono i vertici militari. Come ragionano i vertici militari? Se la debborsente, scusi il termine, fottere a qualcuno, trovano qualsiasi espediente. Le dico un'altra espediente. Ha dovuto pagare dei danni per l'usura degli strumenti musicali? poi ci sono rivolto al procuratore militare e ha detto ma che cosa è stata luce? È archiviato. Ma ha detto ma andate a venire, non fate ridere i polli. Dal tonno del capo di Stato Maggiore dell'arma, un giorno mi chiamò, ti abbiamo rivoltato come un calzino per vedere se aveva uno scheletro in un qualche armadio. Non abbiamo trovato nemmeno il pitale sotto il letto. Così si comportano questi signori quando uno non è d'accordo con una certaria e le capisce che non va assolutamente bene. Io difendo strenamente Vannacci perché Vannacci va difeso perché in questo momento non li potete buttare tutto addosso. Adesso che tirate fuori che quando era ragazzino rubava la mela e la marmellata dalla nonna perché questo... Io quest'anno l'avevo sentita ma pure quest'anno tireranno che lui quando era ragazzino Ma questo è gravissimo deve andare in corte d'assise. In corte d'assise abbiamo rubato la marmellata alla nonna. Vabbè senta io la ringrazio molto e grazie al generale Antonio Pappalardo col quale abbiamo parlato del collega Vannacci e di quello che gli sta succedendo. La ringrazio perché ci ha raccontato un sacco di episodi abbastanza divertenti. Grazie generale. Grazie a lei buona giornata e viva Radio Radicale. La sento spesso. La sento spesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.